salve a tutti io sono paolo quadrino per la rubrica il punto della rivista orizzonte scuola e oggi sono in compagnia di una insegnante di una docente di italiano e latino al liceo statale virgilio di roma e rene gualdo ciao rene ciao paolo grazie per avermi invitato grazie a te della disponibilità e come stiamo vedendo il tema di oggi è sul podcast perché i rene da insegnante digitale nonostante la materia letteraria però insomma si cimenta nell'uso del podcast nella didattica e quindi volevo capire un po con lei quali sono le potenzialità di questa modalità anche di insegnamento e quindi irene vengo subito al primo punto cioè si può utilizzare il podcast per fare tante cose giusto immagino assolutamente ma dimmi te come lo utilizzi allora io mi sono imbattuta nei podcast in seconda istanza perché inizialmente durante il periodo della pandemia ho iniziato a realizzare dei video per le mie classi e poi dai video sono passata ai podcast perché i podcast hanno una serie di vantaggi intanto e questo al pari dei video consentono di raggiungere studentesse e studenti in modo un po inedito rispetto a quello a cui sono abituati rispetto alle metodologie più tradizionali un po come una serie tv no anche puntata dopo puntata i podcast coinvolgono e catturano gli ascoltatori diventando poi parte di una routine che non è più soltanto di studio ma anche di intrattenimento o per usare un anglicismo forse non necessario di edutainment diciamo quindi educazione e intrattenimento e quindi sono più pervasivi rispetto alla lezione tradizionale perché ad esempio possono essere ascoltati nei momenti morti della giornata durante le trasferte per ripassare un argomento già spiegato in classe oppure come hai detto tu stesso per organizzare delle classi capovolte io stessa magari li registravo e li assegnavo come strumento di studio a casa per poi approfondire riprendere o magari fare degli esercizi in classe su quegli argomenti sono utili poi per il ripasso naturalmente sono uno strumento di ripasso guidato e anche passivo in qualche modo e tra l'altro si prestano molto a creare collegamenti interdisciplinari e con i temi di attualità quindi a fare quegli approfondimenti ai quali magari in classe non hai modo di dedicare il tempo necessario inoltre le piattaforme come ad esempio penso a Spotify o iTunes organizzano i podcast in base ai metadati e ai tag e naturalmente questo fa sì che agli studenti e alle studentesse vengano poi proposti altri podcast quindi non necessariamente quelli realizzati dai loro docenti come i miei ad esempio che però sono affini dal punto di vista dei temi, dei contenuti, del metodo, dell'approccio e di conseguenza vengono suggeriti loro altri contenuti in base chiaramente agli ascolti che hanno fatto che consentono appunto di approfondire certi argomenti anche ascoltando voci diverse, divulgatori diversi eccetera perciò hanno una molteplicità di effetti positivi a mio avviso sulla didattica e ancora penso che non siano adeguatamente sfruttati io li uso per esempio molto spesso appunto per le classi capovolte oppure nelle fasi di lancio della lezione anche perché sono uno strumento inclusivo come sai ciascuno di noi ha il proprio stile di apprendimento e il proprio canale di apprendimento privilegiato e per chi preferisce il canale uditivo naturalmente possono favorire il processo di apprendimento in maniera anche determinante e possono essere utilizzati ad esempio anche come fonti penso nell'ambito di un dibattito regolamentato il famoso debate io preferisco chiamarlo dibattito regolamentato perché insegnando italiano e latino cerco il più possibile di tradurre in italiano quando posso gli anglicismi però insomma li trovo uno strumento molto versatile molto efficace e io per prima quando studio quando ripasso magari preparo le lezioni ascolto volentieri dei podcast io sono una grande fan di Alessandro Barbero come penso tre quarti degli italiani e delle italiane e moltissime volte nello studiare nel ripassare storia ho tratto ispirazione dall'ascolto delle registrazioni del professor Barbero o per esempio del professor Serianni quindi magari non nate per i podcast ma poi convertite in podcast perciò sono la prima fruitrice di podcast e quindi cerco di portarli anche a scuola esatto senti ma quali strumenti strumentazioni tecnologie utilizzi per fare questi podcast oggi sono probabilmente molto più amichevoli come anche l'interfaccia i vari software eccetera però ecco di fatto che cosa utilizzi? allora di fatto ti confesso che non so per quale motivo ho trovato molto più semplice realizzare i video per il mio canale youtube fuori classe piuttosto che realizzare i podcast sembra controintuitivo però i podcast hanno secondo me una difficoltà in più perché la cura del suono è molto più complessa e richiede un certo tipo di preparazione sono autodidatta perciò non sono proprio non ho fatto questo tipo di studio io sono laureata in letteratura latina puoi immaginare che competenza ho di montaggio e ho imparato ad utilizzare adobe audition che credo sia uno dei programmi più utilizzati che però è abbastanza complesso tendenzialmente uso questo software sia per registrare che poi per montare può sprodurre pulire per quanto possibile il suono io non ho uno studio di registrazione abito al centro di Roma quindi strade molto rumorose, clacson, cani, urla perciò non è proprio facilissimo per me avere un suono pulito e in più ho un eloquio un po' serrato perciò mi sforzo di fare delle pause e poi utilizzo molto banalmente un microfono un po' più performante rispetto a quello proprio del mio computer portatile che è abbastanza scadente però l'unico strumento che ho dovuto acquistare oltre al software è stato appunto un discreto microfono che mi consentisse ecco di avere una voce un po' meno gracchiante rispetto a quello no 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 complimenti invece per la voce perché va benissimo e invece per la pubblicazione e per distribuirla ai tuoi studenti? allora in realtà per le classi è molto semplice nel senso che senza bisogno di caricarli sulle piattaforme è sufficiente utilizzare tutte quelle piattaforme diciamo didattiche come Google Suite che a partire dal periodo della DAD ormai quasi tutte le scuole hanno attivato perciò io registro e condivido tramite la piattaforma senza bisogno di ulteriori strumenti poi nello specifico ho iniziato questa esperienza con una casa editrice ed è a scuola per la quale ho ideato e creato due podcast di argomento molto diverso uno che si intitola Scrinium che è dedicato agli studenti di latino in particolare gli studenti del biennio perché è associato a un manuale per gli studenti del biennio quindi un manuale di lingua e grammatica fondamentalmente latina in cui mi occupo però di cultura e civiltà romana perciò cerco di rendere un po' più vivace un po' più stimolante lo studio della grammatica che soprattutto in quella fascia d'età non è proprio l'argomento che più facilmente li entusiasma quindi già al biennio al biennio esattamente però cerco un po' di dare il senso lo spessore della civiltà e della cultura che c'è dietro quella lingua in genere si arriva ad affrontare questi temi al triennio però per arrivare al triennio devi aver studiato la grammatica latina al biennio e quindi è un processo difficile per gli insegnanti di latino almeno io ho sempre trovato molto sfidante far apprendere la grammatica latina poi ho insegnato a lungo allo scientifico e allo scientifico il latino è considerato una bestia nera comunque una materia di serie B perciò cerco di associare lo studio della lingua a quello della cultura in modo tale che possano trovarci un interesse più genuino e autentico l'altro podcast invece che ho ideato e che sto realizzando si chiama Profcast ed è dedicato ai docenti perché sul canale fuori classe che è stata la mia prima esperienza di divulgazione mi occupo principalmente di formazione e aggiornamento degli insegnanti primo perché purtroppo la formazione è sempre più costosa e grava in grandissima parte sulle spalle e sul portafoglio degli insegnanti quindi io credo molto nella formazione gratuita o comunque a spese dello Stato non a spese del singolo e in più il tempo che abbiamo a disposizione per formarci e aggiornarci è sempre meno perché lavoriamo tantissimo siamo sommersi della burocrazia nonostante la cattiva fama di cui godiamo purtroppo in Italia e quindi l'idea, no? i famosi tre mesi di vacanza, eccetera no, no, no assolutamente inverosimili tanti di noi vorrebbero aggiornarsi e formarsi ma non trovano il tempo perciò ho deciso di creare questo podcast che appunto immagino si possa ascoltare nel tragitto per andare a scuola ad esempio o per tornare a casa in cui intervisto una serie di autori, di professori, di studiosi sui temi della didattica quindi per esempio la valutazione, l'inclusione scolastica ma anche il benessere a scuola sia dal lato studenti che dal lato insegnanti perché come sai gli insegnanti sono molto esposti alla sindrome di burnout e a una serie di stress è un mestiere usurante, logorante e quindi ci tengo molto anche a offrire degli strumenti per tutelare il benessere psicofisico di studenti e insegnanti bene aggiungo che comunque per fortuna c'è anche la carta del docente che su questo magari può essere un aiuto e un contributo in più però i precari ancora non ne hanno mai voluto la sua sezione dedicata proprio alla formazione quindi sono tutti quanti elementi e tutti strumenti che si possono utilizzare ci sono tante possibilità, tante risorse, tante offerte però ha detto anche una cosa molto interessante che anche gli editori si stanno attrezzando per questo e quindi molti in maniera anche lungimirante cercano di dare nuove modalità di diffusione dei propri contenuti mi sembra una cosa molto interessante guarda in chiusura però volevo sapere qual era l'effetto poi dopo che si ottiene quello che tu perlomeno hai potuto constatare per la tua esperienza cioè gli studenti come reagiscono ecco a questo input allora la mia impressione è che studentesse e studenti trovino i podcast e i video più coinvolgenti rispetto ai libri di testo tradizionali e questo spiega il successo di youtuber come Elia Bombardelli o Schettino mi pare l'autore di La Fisica che ci piace perché chiaramente è un canale che è più consono ad altri stili di apprendimento rispetto a semplicemente lo studio sul libro di testo che può essere per alcuni studenti inerte rispetto al video o all'audio inoltre il podcast ha il vantaggio di poter essere fruito in qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi luogo questo significa che studentesse e studenti che oggi sono sempre più impegnati in mille attività pomeridiane possono però organizzare il loro processo di apprendimento in maniera molto più flessibile quindi gli studenti che utilizzano il podcast come strumento di apprendimento spesso sono più soddisfatti e gratificati e in ogni caso hanno un'alternativa rispetto al manuale o un'integrazione poi naturalmente io li incoraggio moltissimo ad abituarsi a leggere a studiare sul libro, sul cartaceo o sul digitale se lo prediligono però affiancare il libro di testo ad altri strumenti è anche un procedimento che facilita l'inclusione scolastica perché ciascuno di noi apprende in modo diverso ed è importante offrire una pluralità di strumenti di apprendimento in modo che ciascuno possa poi scegliere quello che è più consono inoltre il podcast così come i video consente di personalizzare l'apprendimento oltre per la questione appunto dei vari canali dei vari metodi di studio anche proprio perché si può suggerire a studentesse e studenti l'ascolto di un certo podcast una certa tipologia di podcast in base ai loro interessi se io ad esempio ho studentesse, studenti che sono appassionati di musica magari troverò quei podcast e quei video che affrontano ad esempio il tema della musica nel mondo classico viceversa il gruppo di studenti che è appassionato allo sport posso avvicinarlo allo studio del latino attraverso, poniamo, lo studio dell'attività fisica nell'antichità e quindi l'offerta sempre più ampia di approfondimenti e di strumenti divulgativi che affrontano questi temi ci consente di realizzare questa personalizzazione della didattica di cui si parla tanto ma che spesso rimane astratta e invece questo la rende più concreta inoltre un altro vantaggio è quello di facilitare la teledidattica nel senso in tutte quelle situazioni in cui ci siamo trovati costretti volenti o nolenti a dover lavorare da remoto con le nostre classi il podcast e il video sono degli strumenti in più Senti, una cosa però vorrei sottolineare nell'apprendimento anche uditivo mi sembra che questo sia un livello avanzato e raffinato se vogliamo dal punto di vista anche professionale cioè mi spiego partiamo dai messaggi vocali di Whatsapp per arrivare a un podcast nel quale però c'è c'è uno storytelling da scrivere una cura dei contenuti una cura anche dell'audio ecco quindi in questo cosa ti senti di dire ai tuoi colleghi? Intendi quali suggerimenti nel caso in cui volessero loro stessi realizzare dei podcast? Sì esatto cioè in effetti c'è una bella differenza tra magari un approfondimento una spiegazione che si può fare in un file audio generico che va bene lo stesso però al fatto di costruire un vero e proprio podcast con una trama con degli accorgimenti con magari delle musiche di sottofondo non so ecco questi aspetti qua anche non so se tu li hai potuti anzi no sicuramente li hai approfonditi ecco che cosa ci vuoi dire su questo? Assolutamente sì allora di base è fondamentale una buona scaletta nel senso che il podcast e il video difficilmente si improvvisano ed è molto difficile e sfidante trovare un equilibrio tra la naturalezza che lo strumento richiede e la qualità dei contenuti e la strutturazione del discorso perché chiaramente andare a braccio comporta il rischio di dilungarsi di essere ripetitivi di praticare la ridondanza magari di essere anche sciatti nell'espressione perciò una buona scaletta è chiaramente un punto di partenza per quanto riguarda gli effetti sonori e le musiche devo dire che ci sono tantissimi repertori online che offrono delle musiche anche gratuite è sufficiente citare la fonte da cui proviene la musica chiaramente più la colonna sonora o l'accompagnamento musicale è raffinato più è improbabile che sia gratuito perciò per forza di cose anche io in diversi casi sono stata costretta a scegliere magari un accompagnamento che non mi faceva proprio impazzire ecco non era Mozart però d'altra parte si fa di necessità virtù perché io mi sono autoprodotta e continuo ad autoprodurmi in grandissima parte quindi chiaramente con le risorse che abbiamo di necessità virtù ecco però secondo me l'aspetto della sigla e del sottofondo musicale non sono assolutamente prioritari cioè molto spesso i podcast di maggiore successo sono quelli che condividono valore e in questo senso e questo diciamo mi aiuta mi conforta non occorre necessariamente avere una voce educata una dizione perfetta un'esperienza ad esempio teatrale che chiaramente aiuta però appunto nel mio caso da autodidatta devo dire che comunque ho ricevuto tantissimi riscontri positivi da parte dei colleghi delle colleghe o degli studenti nonostante non abbia alcuna formazione di questo tipo e quindi abbia dei difetti di pronuncia dei appunto come dicevo un eloquio molto spedito per cui non sempre semplice da seguire una serie di aspetti che io stessa critico di me su cui cerco ovviamente di lavorare non mi prendo così come sono ma che in passato mi avevano impedito di cimentarmi con questo tipo di mezzo proprio per una mia insicurezza per il timore ecco di non essere all'altezza della situazione poi il desiderio di condividere soprattutto con i colleghi e le colleghe oltre che con gli studenti perché comunque il lavoro in classe c'era già ed era già molto gratificante appagante di per sé però invece ho proprio avvertito questa necessità da parte dei docenti di una formazione costante di un aggiornamento perché poi il mondo della scuola cambia a una velocità pazzesca e non mi ricordo un amico mi diceva proprio qualche tempo fa faceva una riflessione molto intelligente diceva se diciamo una persona del passato si ritrovasse oggi nel mondo contemporaneo probabilmente non riconoscerebbe nulla tranne la scuola cioè se porti a scuola un uomo del settecento la scuola è pressoché identica diciamo che ora ci sono le lim ma fino a quando ci andavo io era rimasta immutata e questo da un certo punto di vista dall'altro però la normativa le richieste avanzano a un ritmo acceleratissimo e non sempre riusciamo a stare al passo quindi c'è bisogno di ascoltare esperti dei vari settori formatori pedagogisti psicologi di questo confronto anche con altre professioni che però possono arricchire tantissimo il nostro bagaglio la nostra cassetta degli attrezzi nel lavoro in classe ma guarda io credo appunto che poi dopo anche con i tentativi l'esperienza si affinano queste tecniche si migliora e quindi io credo che possa essere veramente alla portata di tutti gli insegnanti questo strumento e quindi sicuramente l'invito è per tutti quanti a provare così come mettersi alla prova con i vari metodi e poi anche un po' per errore si migliora il prodotto sicuramente bagliando si impara visto che insegniamo appunto alle nostre classi l'importanza dell'errore purtroppo dobbiamo farci i conti noi per primi effettivamente ecco bisogna un po' lavorare sul perfezionismo questo è il consiglio principale che posso dare cioè il perfezionismo spesso ci blocca e ci impedisce di realizzare delle cose che magari non saranno ineccepibili ma che possono essere utili e questa è la cosa più importante ma infatti non lo devono essere perché l'obiettivo non è quello sicuramente bene guarda io credo che hai condiviso questa tua esperienza che certamente è preziosa per tutti grazie complimenti a te per tutte le tue attività per il tuo lavoro un saluto a te e ai tuoi ragazzi che con i podcast sicuramente avranno degli ottimi risultati lo spero mi sembra di sì grazie mille è stato un piacere parlare con te buon lavoro grazie anche a te grazie a te